per i cittadini. È evidente che durante i lavori ci saranno dei disagi perché alcune aree saranno chiuse al traffico, ma saranno lavori che avranno una durata molto breve, lavoreremo in alcuni casi anche durante le ore notturne in modo da ridurre i disagi al minimo e poi abbiamo già avviato assieme alle ferrovie dello Stato quest'area dove una persona può accompagnare un amico, un familiare kiss and ride, come l'abbiamo chiamata, in modo da non pagare neanche un euro e avere 15 minuti di tempo per salutare una persona o per prendere una persona che arriva con il treno nella nostra città. Sia via Marsala che via Giolitti avranno il manto stradale completamente rinnovato e insieme alle ferrovie dello Stato l'intera stazione verrà rinnovata, ristrutturata, resa più bella, più accogliente, più luminosa.